Dopo che la cronaca nazionale ha parlato della città di Sora come un luogo in cui è forte il problema dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Commissione Sanità Comunale, presieduta dal dottor Luciano Conte, ma allargata ai rappresentanti della sanità, delle forze dell'ordine, del sociale, della scuola ed anche ai semplici cittadini, si è riunita per parlare del disagio giovanile dei nostri tempi, che porta a dipendenze sotto diverse forme. Non solo lo stupefacente, quindi, ma anche l'alcol, la dipendenza tecnologica come quella dal semplice telefonino o dalla console di gioco. In molti hanno portato la propria testimonianza in merito, acquisita in tanti anni di lavoro sul campo. Ci si è confrontati per cercare di arrivare ad una soluzione, non semplice. Abbiamo presieduto questa Commissione Sanità allargata, hanno partecipato per fortuna tantissime persone, sono stati toccati temi molto importanti. Abbiamo soprattutto stressato la problematica del disagio giovanile, manifestatosi sia con la dipendenza da sostanze, dall'uso di alcol, le ludopatie e anche le nuove dipendenze tecnologiche, da cellulare e altri giochi. Sono intervenute persone, hanno portato la loro esperienza e le loro proposte per rafforzare le azioni di educazione, di prevenzione, di cura, di presa in carico e anche di contenimento. Gli interventi sono stati tutti molto interessanti, è sicuramente un primo passo e cercheremo di rendere più praticabile un aiuto a tutti quelli che ne hanno bisogno che va dalla famiglia alla persona che fa uso di sostanze oppure che subisce una dipendenza. È chiaro che in una famiglia un ragazzo che fa uso di sostanze spacca e rovina davvero il futuro di tutta una famiglia, tutta questa famiglia rovina in un certo modo la nostra società, la nostra città. Vogliamo essere di aiuto per un'azione di contenimento, un aiuto sinergico fatto da tutte le figure che si sono occupate da anni di queste problematiche e sono riuscite ad arginare, a reinserire e a salvaguardare una certa quantità di nostri giovani. Questo è il nostro intento, ci rincontreremo credo presto. La Commissione Sanità è così allargata, è nata perché la nostra città è assunta la cronaca nazionale per episodi abbastanza importanti, il fatto di trovare delle siringhe che possono essere anche infette e quindi vettrici di malattie molto importanti, soprattutto la possibilità che persone inconsapevoli come i bambini possano ne raccontare con infezioni molto importanti, insomma è un pericolo che è reale e che combattiamo, però cerchiamo di combattere il Comune riesce con l'aiuto delle strutture preposte. Ma studiando e toccando con mano questa problematica ci accorgiamo che si è molto allargata la problematica, l'uso di sostanze a base di eroina è sempre minore, invece si è allargato moltissimo l'utilizzo della cocaina sotto forma di crack soprattutto, che è venduta poi a prezzi così bassi, intorno ai 10 euro, e i fruitori hanno un'età sempre più bassa. Pare che in tutta Italia i ragazzi tra i 15 e i 19 anni, mentre raggiungevano il 18% della popolazione, adesso sono il 29%, questo è stata un'indagine fatta dal Ministero della Sanità, quindi stiamo parlando di un numero molto grande di ragazzi che si vengono a contatto con queste sostanze. L'importante non è che tutti poi una volta venuti a contatto continuano questa storia, ma bisogna cominciare a diffondere e far sapere queste notizie, perché l'aiuto delle associazioni, delle scuole, delle forze dell'ordine, del Comune e delle famiglie che sono informate, di questo il vostro ruolo è molto importante, può servire ad arginare. A livello locale è doveroso mettere in atto azioni mirate a contrastare questi fenomeni e a realizzare misure di prevenzione sociale focalizzate su situazioni specifiche e dalla riunione è emersa la necessità di attivare un protocollo d'intesa tra tutti gli attori interessati per lavorare insieme e cercare di portare risultati importanti. Il protocollo è l'idea di unire le forze, unire le forze e raggiungere le famiglie e continuare a fare quello che si fa nelle scuole, con i ragazzi e unire le forze per fare un po' di più.